Per me essere nella cinquina del premio Campiello è un grande onore, pensare di essere stata letta e giudicata da una giuria di letterati che hanno letto ogni singola pagina delle mie 700 è comunque già un grande traguardo. Il modo in cui ho preso di essere finita in cinquina peraltro è piuttosto rocambolesco perché non avevo idea che ci fosse la cerimonia di programmazione della cinquina quel giorno l'ho appreso per pura fortuna, per puro caso ed è stata quindi una grande emozione anche se c'era una specie di incredulità iniziale dovuta proprio a questo non sapere cosa si stava svolgendo e che mi riguardava molto direttamente quindi è stato molto emozionante. Il rapporto con i lettori è molto stretto e diretto, quasi disintermediato perché mi scrivono spesso su Instagram soprattutto e i lettori sono anche molto giovani il che mi fa particolarmente piacere e c'è una paragiuria di letterati che non fanno parte di nessun premio e che hanno parimenti una lettura attenta, molto colta, molto accurata che desiderano comunicarmi e quindi mi fa particolarmente piacere che siano giovani e che il mio libro li abbia toccati profondamente.